Gli argomenti del dialogare di scienza dell'anno scorso sono stati tutti quanti molto interessanti, siccome sono argomenti che a scuola normalmente non vengono trattati. L'incontro che mi è piaciuto di più è il teatro di testa. L'incontro che mi è piaciuto di più è stato quello del serbatorio astronomico, perché era affascinante. Era bello guardare nel cielo tutti assieme. La conferenza che mi è piaciuta di più è stata quella sulle Spartap, perché incita i giovani a investire sul proprio futuro e a mettersi in gioco. L'argomento che mi ha interessato di più sono state le microplastiche, poiché pur essendo dei consumatori produciamo un grande inquinamento a Noscano e Sapusa. L'incontro dialogare di scienze che mi ha attirato di più è stato quello sulla sessualità, perché è un argomento che attira i giovani e di cui dovrebbero essere informati. Del dialogare di scienze dell'anno scorso mi è piaciuto in particolare la parte sulla genetica, perché sarà il mio campo di studi all'università. La conferenza che mi è piaciuta di più è stata quella delle donne della scienza, essendo un argomento a cui tengo molto. Grazie a tutti.